Io pregherei, per introdurre questo incontro, pregherei la regia, come si dice, di mandare il primo filmato, una serie di fotografie fatte da Alessio Romanzi che usualmente frequenta la Libia assieme a Francesca e queste sono alcune fotografie significative su cui andremo a ragionare. Quelli che vedete sono centri di detenzione legali, ovvero dipendono dal ministero e dall'interno del governo di Fayez al-Sarraj, del governo che noi riconosciamo come interlocutore legittimo, politico. Chiudono, aprono e si trovano sparsi in tutto il paese, ma prevalentemente nelle zone costiere e della Libia occidentale. Le foto che state per vedere invece sono delle testimonianze delle ultime guerre che ha vissuto la Libia, che è la guerra in corso a Tripoli, oggi, cioè l'offensiva lanciata dal generale Khalifa Haftar sulla capitale, la guerra di Sirte, cioè la capitale del Maghreb, dello Stato Islamico, che è una città altamente simbolica perché è la città che a Gheddafi ha dato i Natali e la morte, e la guerra civile del 2014. Sono foto che ci raccontano che cosa? Ci raccontano che dopo il 2011, l'anno, che a me non piace chiamare Primavera Araba per tante ragioni, ma insomma diciamo l'anno della rivoluzione, la Libia ha vissuto otto anni di conflitti ininterrotti, di conflitti di natura tribale, conflitti, guerre civili, fino ad arrivare a questa ultima guerra che è un passaggio ulteriore rispetto a conflitti precedenti, perché più nettamente delle guerre precedenti è chiaramente una guerra per procura, cioè una guerra in cui potenze internazionali, specificamente non potenze europee, ma insomma ci arriveremo, piuttosto gli stadi del Golfo, stanno declinando la propria influenza e il proprio potere in un paese ricchissimo come la Libia. La Libia è una costruzione fittizia. Mi viene in mente che le guerre a cui abbiamo assistito negli ultimi 30 anni, almeno in questa fetta di mondo che contempla l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa, sono scoppiate tutte nei luoghi di confine dei due grandi imperi che un secolo fa si sono dissolti. Sarebbe interessante andarsi a vedere gli antefatti della Prima Guerra Mondiale e andare a capire quali dinamiche ha innescato, diciamo così, tutto ciò che ha portato alla Prima Guerra Mondiale e tutto ciò che ne è poi conseguito. Da quel modo di gestire quel dopoguerra nato appunto sulle premesse dei nazionalismi imperialisti, che poi nelle varie fasi di riaggiustamento e anche di cessione delle colonie, fanno queste operazioni di creazione di stati a tavolino completamente arbitrarie, tracciono delle linee e in realtà succedono più o meno ovunque poi delle catastrofi anche gigantesche che abbiamo belle che dimenticato. Quindi l'instabilità nasce praticamente in quel processo che è un processo che abbraccia il prima e il dopo le due guerre.